E puoi svegliare alle 5.20 del mattino per andare a Corea? Certo, guardate, vuoi il fisico però. Un fisico così... Puoi accompagnarsi, no? Aspetta, vengono. Ma non è ancora in calma, per volerci pensare. Ancora in calma? Eh. Come va detto, ha l'attenzione di andare a mare dopo bicicletta. Via d'arco, non c'è di calma, non c'è bene, è bellissimo. Ciao. C'è la videocamera, c'è, il disegnino. Boh, sta andando 0,7, 0,8 con la lucina rossa che lampeggia la videocamera. Videocamera, videocamera, l'ho vista adesso. E sei carino. Come si è messo, Stef? Eh, lo fa. Lo fa? Io l'ho provato, eh. No, sì. Luca è quello più in forma. Stefano sta resistendo bene, però guardate come è vestito. Fantastico. Corri un po' d'acqua. Ma è la mia borsa. Corri un po' d'acqua. Non è un bel passo che hai, salita, Stefano. Bella stai. Bella stai. Ecco cosa servono le protezioni. Che marcia sei? Troppo... Passi un po'. Sì. Scegli di marcia, di ricocco. Va bene, ma lui che c'è il comandiscio, c'è marcia, guarda. Dagli la spintina in culo, come devi fare con me. Ehi, vai, Zetto. Vai, vai. Eh, l'ho detto che qui è tosta, eh. Vai. Vai, vai, vai. Minch, è troppo morbido, ma se la devo fare. Mi lancio a manetta, dai, giù, ci dà, tu, bolelli. E non fai fare la curva, zio. Eh? Oh, come mamma. Spostati, stai, mettiti al lato. Eh, niente, niente. Mi sa che ti tocca di walk, se non ce la faccio così vuol dire che non ce la facciamo, eh. A piedi. Io ci provo. Io ci provo. Occhio al telefono, mi usa i guys, eh. Vai, tranquillo. Quando c'è la casca. Occhio al telefono. C'è la tua sgomba, da stupido. Ma a moro. Fattica. Decisamente tanta fatica. Che panorama, però, eh. Qui c'è una figa. Commenti? Che lo dici è una figa. Era enorme. Dai che andiamo, dai. È bella quella figa. Sono un commesso di Stoccolma, lavoro in ufficio, vado in bici per rispettare l'ambiente. È un muscolo potente. Ma guarda, no? Si è guffiata la gamba, oh. Mico, che cos'è? Perché mi si è guffiata la gamba, oh. Dai che andiamo, cazzo, dai. Dai. Tutto ok. Eh. Luca, abbiamo fatto tutto a posto? Una mica. Riccadi, dai. Andiamo, Giacomo. Oh, arrivo. Dove cazzo, siamo passati, ragazzi. Stefano, presentaci la natura sarda. Beh. Benvenuti in Sardegna. Luogo di mare, montagne. Eh merda. Bello, bello, bello. Stiamo. Vai, Lupi. Mica, vedi nel video un cinghiale, che l'odore. Siamo davanti a un dilupo. A forma di dilupo. Tutti i monastiresi vivevano qui, generazione dopo generazione. Eh, non è stata cristallina qui dentro. Cioè, si vede a questo punto, c'è un po' di sabbia. Stai sudando, Stefano. Mica. Diranno quelli in spiaggia. Mica, lì fai il video e non lo aiuta. Stefano. Mica, se ti mandi e diri. Davvero campione mondiale. Si sveste. È pronto. Luca, non prendi il telefono qua, eh. Sali, su quella pietra lì, guarda. Su quella. Vedi questa pietra qua? Guardi che è tipo sto cimento, sicuramente c'è mento anche. Ma poi non ti basta. Ah, gli va con dai. No, è basta, ragazzi, non è tu. Dai, allora andiamo in riva direttamente, dai. Sono belle le nostre bici. Stefano. E va questo, lo si lancia, sta quello agli animali. Che risultati abbiamo fatto, dottore? Ho fatto il com in Passo a Montegani, very top. In 3 minuti e 32. Vediamo Mirta. Oh, Mirta, ti ho demolito. Non è che ci sei inconsistica. Quanti chilometri? 34 kg? Quasi 35. 2 kg. No, andiamo al mare, però, ragazzi. Sono nono in Ers. Vega, stagagna. Stratte il rapporto attivo e pizzetta. Non ho i miei capelli. Guarda i miei capelli, Gianni. Guardate le bestie. Sì, tu sei mi fai nel luogo. La birra in pietra, commenta. La birra di Ulb, ragazzi. Guardi che è il casco che aveva fatto a pietra, Gianni. Tacona. Ciao. 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 Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!